Ciao a tutti, mi chiamo Gianni Cressi. Qualche anno da quando ho avuto circa sette anni, anzi ne ho avuto sette, in cui ho iniziato a suonare, prima uno strumento di accompagnamento e poi dopo avuto circa nove anni ho iniziato a suonare la tromba, da cui sto suonando ancora adesso. Io vorrei ricordare tanto del papà di Walter, che si chiamava Berro Mario, e ricordo dei momenti in cui quando si facciano le prove, lui aveva tante volte da ridire con suo figlio per i pezzi da eseguire e come eseguirli, e ora c'erano questi battibecchi in cui le prove si inoltravano anche fino alla tarda sera. Comunque lo ricordo anche tanto con questo perché a lui piaceva tanto parlare, parlava con me, con gli altri, allora si tratta di romper le prove sul figlio e comunque si andava, era bello. E un altro, altri episodi, anzi uno in particolare direi, quando in pratica è iniziato a suonare già un po' meglio, comunque lui essendo sempre stato le trombettiste che eseguiva, i silenzi in chiesa con gli albini e tutti gli attenti a queste cose, fu lui il primo ad affiancarmi per insegnarmi, o comunque per darmi coraggio e eseguire i pezzi che toccava a lui, però alla fine sono ben passata a me e lo ricordo veramente bene. Grazie Mario, ciao!